Un minuto con Padre Pio da questa casa, la casa Maria Pail, l'americana Maria Pail, eccola qui, era definita una vera e propria mamma per i frati Cappuccini che venivano spesso qui e lei andava spesso dai frati in convento, dallo stesso Padre Pio, una grande benefattrice della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio, grazie a lei venne costruito il convento di Pietrelcina, oggi qui per raccontarvi la grande tenerezza di un figlio nei confronti del papà, ecco ce lo racconta Padre Bonaventura Massa, perché in questa casa i genitori di Padre Pio trascorsero gli ultimi tempi, gli ultimi ore, gli ultimi mesi, ad esempio mamma Peppa che morì il 3 gennaio del 1929 trascorse qui l'ultimo mese di vita, una polmonite la uccise, la portò via e poi Grazio Forgione che morì in questa camera il 7 ottobre del 1946. Oggi per raccontarvi quello che accadde tra queste mura perché papà Grazio volle venire a vivere in questa stanza e volle dormire su questo letto su cui era morta la moglie e un padre che venne accudito fino all'ultimo da suo figlio che veniva qui ogni giorno a trovarlo, però quello che oggi vogliamo raccontarvi, vogliamo raccontarvi due episodi che ci racconta Padre Bonaventura Massa significativi. Il primo che su questo comodino c'era un ritratto, un ritratto, una fotografia di mamma Peppa, a cui papà Grazio teneva tantissimo. Un giorno non se lo ritrovo più questo ritratto e papà Grazio si infuriò con tutti coloro che venivano qui a trovarlo perché qualcuno si era portato in questa stanza e gli aveva sottratto questa fotografia. Beh sorrido perché ci fu un mandante, il mandante era Padre Pio da Pietrelcina perché quella foto la ritroviamo nella cella numero uno, era Padre Pio che voleva quella foto per sé e la portò via a papà e il papà poi stava quasi per strillare il figlio ma non lo fece. L'altro episodio lo raccontiamo proprio accanto alle scale dove papà Grazio un bel giorno cadde. Era gennaio del 1946, ecco sono scale ripidissime che il povero papà Grazio doveva fare ogni giorno e scendendo cadde a non finire fino alla porta d'ingresso. Beh lui si rialzò come se nulla fosse, con giusto qualche dolore. Andò da Padre Pio, sai oggi sono caduto ma tutto bene. Padre Pio gli disse caro papà devi ringraziare il tuo angelo custode perché per ogni gradino ti ha messo un guanciale affinché tu non morissi sul corpo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.